Ciao, sono Stefania Cefalo, docente innovatore della Scuola del Noi, una iniziativa di Fondazione Mondo Digitale che mi ha dato l'opportunità di mettermi in rete con docenti selezionati in tutta Italia e la possibilità di apportare le esperienze didattiche maturate sia come docente di scuola dell'infanzia e primaria ma anche come docente formatore e media educator. Insieme alle colleghe del team di cui faccio parte abbiamo ricercato e sperimentato strumenti digitali open source gratuiti sia per i docenti che per gli alunni per realizzare un edu game book finalizzato all'insegnamento apprendimento della geografia, un modo divertente per avvicinare i giovani alla cultura utilizzando un linguaggio all'oro più vicino, creatività, fantasia, partecipazione per l'uso consapevole degli strumenti digitali e il conseguimento di una cittadinanza attiva.